Dove nasce Dio, nasce la speranza. Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c'è più posto per l'odio e per la guerra. Il Vescovo Pierantonio, il 24 dicembre alle 20 in cattedrale, ha presieduto la messa della notte di Natale. La notte che illumina tutte le notti è arrivata anche quest'anno. La luce che rischiara le nostre tenebre e ci strappa dalle ombre della morte è tornata a brillare. La parola rivolta ai pastori risuona anche per noi ed è annuncio che rincuora. Oggi vi è nato un Salvatore, che è il Cristo Signore. Di salvezza abbiamo bisogno. Ce ne siamo resi conto in questi mesi faticosi e dolorosi, il cui peso ancora grava su un presente che rimane preda dell'incertezza. Abbiamo bisogno di una salvezza che dia respiro, che torni ad offrire serenità, che unisca insieme salute del corpo e pace del cuore. La grande attesa dei profeti ci trova in questo anno ancora più in sintonia. La sentiamo profondamente nostra. Il loro sguardo sul mondo ferito, sguardo insieme amorevole e severo, ha tenuto viva per secoli la speranza. Gli uomini di Dio che si sono avvicendati nella storia e hanno dato voce alla sua parola non sono mai stati rinunciatari. Lasciarsi cadere le braccia per loro era impensabile. Hanno lottato contro la tentazione di abbandonare il campo, contro la paura di non farcela e contro la pigra rassegnazione. Non hanno mai smesso di credere nella fedeltà di Dio e ad essa si sono appoggiati come a una roccia incrollabile. La costante frequentazione del mistero della grazia li ha resi fermi e tenaci. E mentre sentivano nel profondo del cuore la forza vittoriosa della bontà di Dio per gli uomini, entravano sempre più nel segreto del suo disegno di salvezza. E così hanno dato voce all'annuncio che ha attraversato i secoli. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia. Hai aumentato la letizia. Perché un bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle il potere. Il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Colpisce il fatto che queste parole non siano al futuro ma al presente. Come se il profeta già facesse esperienza di quanto in verità l'umanità stava ancora attendendo. È proprio delle grandi anime superare i limiti del tempo, porsi in totale sintonia con la manifestazione di Dio e quindi abitare l'eternità. Gioia, letizia, luce e pace. Sono le parole con cui i profeti danno espressione alla promessa di Dio. La gioia e la pace sono l'anima del Natale di Cristo. La luce è l'essenza del suo mistero, luce della grazia, di bontà e di bellezza. Di questa gioia e di questa pace che vengono dalla luminosa manifestazione di Dio, l'umanità ha ora più che mai bisogno. E se non tutti hanno coscienza di questo straordinario dono che la storia ha ricevuto con il Natale di Cristo, noi che crediamo in Lui desideriamo annunciare che questo in verità è accaduto, che Dio ha visitato il suo popolo, che il cielo si è congiunto alla terra in Betlemme di Giudea, nel cuore di una notte solo apparentemente ordinaria, che le promesse dei profeti hanno trovato conferma nelle parole dell'angelo ai pastori. Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. I nostri giorni, oh Signore, invocano questa gioia, come la terra che per troppo tempo è rimasta senza acqua. I volti dei piccoli e dei grandi, soprattutto i volti dei nostri anziani, per troppo tempo contratti nella sofferenza e nella paura, sentono prepotente il desiderio di aprirsi al sorriso. Tu vieni in mezzo a noi, oh Signore della pace, come colui che compie l'attesa. Abbiamo compreso quanto incerto sia confidare nell'uomo, affidare la nostra speranza alle sole nostre forze. Noi confidiamo in te e a te affidiamo il nostro presente e il nostro futuro. Da te accogliamo le parole profetiche della promessa antica che è diventata realtà. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, Egli viene a salvarvi. Il nostro sguardo si posa oggi ancora più intenso sul tuo presepe e qui ricerca il segreto di una vita purificata dalla presunzione orgogliosa di bastare a noi stessi. Siamo destinati alla comunione con te, a una vita che non conosce tramonto, la cui caparra è l'amore solidale. Una testarda nostalgia che nessuna mondana abitudine riuscirà a sopire totalmente alimenta in noi desideri di cielo. È sprone a guardare in alto e poi dall'alto tornare a guardare la terra con occhi purificati e commossi. La sofferenza che ci ha colpito ha reso ancora più evidente che ciò che fa grande l'uomo di ogni tempo è la sua nobiltà d'animo e la capacità di prendersi cura dei suoi fratelli. Così vogliamo vivere quest'anno, Signore, il tuo e nostro Natale, con totale affidamento e con profonda riconoscenza. La fragilità della nostra carne, in questi mesi così duramente provata, è oggi visitata dalla grandezza della tua gloria. La gioia e la pace che tanto desideriamo non vengono da noi, ma, lo sappiamo, sono per noi. Sono il dono del nostro Salvatore per l'umanità che Egli ama. Sì dunque benedetto, Signore, per questa affettuosa condiscendenza. Tu, Signore della gloria, ti sei fatto nostro fratello. Tu, Figlio dell'Altissimo, ti sei fatto nostro compagno di viaggio. Con te volgiamo lo sguardo al futuro, ai giorni che ci attendono. A te chiediamo, confidenti, di spegnere l'ansia dei nostri cuori con la rugiada della tua speranza. Tu sei il nostro Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Ame. In Gesù assaporiamo lo spirito vero del Natale, la bellezza di essere amati da Dio.